Musica Hi guys, qua Gere e benvenuti in questo nuovo video tutorial del canale Oggi come promesso nello scorso video farò un tutorial per mostrarvi a tutti quanti come si fa a scaricare loquendo craccato sul proprio pc Quindi questo è un metodo che dovrebbe funzionare con tutti i pc Ecco il telefono che rompe il cazzo ovviamente Quindi cominciamo subito col tutorial Cercherò di essere chiarissimo Quindi dovrebbe funzionare a tutti spero E quindi partiamo subito con il tutorial Prima cosa da fare è andare sul link che vi ho messo in descrizione sicuramente E poi do aprire... Cazzo è successo? Aprire il proprio browser Adesso io ho google chrome Andare sulla barra degli indirizzi e fare ctrl v Quindi incolla, si può fare pure tasto destro e incolla Quindi cerchiamo E ci sarà un file su mediafire che ho caricato io Quindi state tranquilli che non ci sta merda dentro Adesso a parte gli spam che mi si aprono Noi dovremo cliccare semplicemente su download Una volta che partirà il download non sarà troppo pesante Dovremmo aspettare ovviamente che finisce E adesso io lo annullo perché l'ho già fatto Vedete sta qua E' un file RAR Quindi ragazzi... Ok, ascoltami Ruberò solo 3 minuti del tuo tempo Sì, bastano 3 minuti Gli spam ragazzi Soltanto una parola Gli spam Ecco qua Prometto subito che è un file.rar Quindi dovremmo avere Winrar Che è un programma che vi ho lasciato in descrizione un po' di tempo fa Ma ve lo rilascio in descrizione sicuramente Pure questa volta Così non vi perdete niente In ogni caso Se volete vedere il video dove vi ho messo Winrar in descrizione Adesso faccio apparire qualcosa di sicuro da qualche parte Quindi andremo ad aprire il nostro text allowed scaricato E dovremmo cliccare in seguito su estrai in desktop Adesso io non lo faccio perché l'ho già estratto Ecco text allowed Se non vogliamo fare questo procedimento Basterà fare tasto destro Estrai qui se siamo già sul desktop Oppure estrai file E poi mettiamo desktop Quindi perfetto Fino qui ci dovremmo essere tutti quanti Se il file non sarà già predefinito Punto.rar Con questa immaginetta Dovremmo fare Apri Apri con Adesso non ce l'ho Ah eccolo E poi dopo qui Avremo tutte le nostre opzioni Adesso io metto questo qui Già ce l'ho predefinito Quindi una volta estratto Avremo questa cartella qua Che adesso A me è per metà vuota Perché io l'ho già usata Quindi vi faccio vedere In quest'altra Che non dovrete usare voi Ma dovrete usare quest'altra qui Però adesso è la stessa cosa Per farvi vedere Quindi Prima cosa da fare È far partire il setup Di text allowed Per chi non sapesse che cos'è un setup È praticamente quella Sottospecie Di applicazione Che vi permette Di scaricare definitivamente Un'app Dove voi dovete Sempre accettare Tutto quanto E fare sempre Avanti 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 Quando ve l'avrà scaricato Avrete questa applicazione Che adesso Non so perché Ha il logo Cioè non ha il logo Ma dovrebbe avere un logo Con un AT E un altoparlante Alla sua destra Non so perché Non è il logo Se non ci sarà il logo Tranquilli Che non cambierà Un cavolo È soltanto una cosa Così Un bug Non ho ancora capito Che cavolo è Ma tranquilli Che non cambia un cazzo Quindi Una volta che ve l'avrà scaricato Dovremmo andare Ad aprirlo E una volta Aperto Più o meno qui Vi si aprirà una finestra Che vi romperà I coglioni Da queste parti Più o meno Piccoletta Che vi Chiederà di inserire O il codice seriale Oppure Dovremmo andare avanti Col free trial Noi invece Metteremo il codice seriale Qui in basso ci sarà La casella per mettere Il codice seriale Comunque Sarà scritto in inglese Quindi non so se voi Capirete Ma Comunque Vedete Vedete una casella Per scrivere Qui in basso A destra Dove vicino Si è scritto Free trial E Qui noi Adesso Andiamo a scrivere Un codice Che praticamente Sarà Scritto Qui Su codice seriale E avremo il codice Da inserire Quindi già Il primo crack L'abbiamo fatto Basterà fare copia Andiamo lì E facciamo Incolla Poi Su Quel Su quel quadretto Per mettere il codice seriale Una volta fatto questo Si dovrebbe Dovrebbe Partire Il programma Di text aloud Se Appaiono altre finestre Basterà sempre fare Continua E tranquilli Che non chiede Altra roba Quindi potete Andare direttamente A text aloud Una volta che si apre il programma Dovremmo chiuderlo subito Senza cliccare Un cazzo di niente Perché se no Incomincerà A caricare Altri file Su La scheda Di Di Rockendo Quindi non lo facciamo Chiudiamo direttamente E Ci saranno due opzioni Per chiudere Che sarà Quella più in fondo Sarà Exit Text aloud E noi dovremo cliccare Su quella E poi dopo Continua Attenti a non cliccare Sull'altra Perché poi dopo Se no Bisognerebbe fare Un passaggio in più Cose che noi Non vogliamo fare Quindi una volta Chiuso text aloud Dovremmo tornare Sulla nostra cartella E andare Su voci Poi dopo Noi dovremo scaricare Tutti questi qua Che sono Roberto.ex Paola.ex Luca.ex Che sono le tre voci Italiane principali Quindi noi le scarichiamo Una per una Senza dover trascinare Queste cartelle Da nessuna parte E poi dopo Arriva il punto Del crack finale Quello più importante Questo qui Che sarà sempre Nella cartella voci Perché se no Non lo inseriremo Le voci non funzioneranno E chiederà di fare Un'iscrizione A un sito Cose che adesso Io ancora non ho capito Quindi State attenti Non riaprite Text aloud Dopo che avete messo Le voci Adesso Una volta messe Le voci Avremo Già detto Questo file Punto DLL E se avremo Windows 8 Dovremmo andare Su schermata Start E poi Questo pc Se invece Avete windows 7 A posto di questo pc Su desktop Ci sarà scritto Computer O risorse del computer Per windows xp Quindi andremo Ad aprirlo Adesso io la apro Come si fa Con windows 8 Anzi Per windows 8 Più che altro Sarà scritto In fondo Questo pc Io ho Windows 8.1 E clicco qui Allora Poi dopo Andremo su Disco locale C Programmi per 86 Attenti a non cliccare Su programmi E poi dopo Dovremmo trovare Loquendo Poi Ltt E poi dopo Qui Ci si aprirà Questa finestra Adesso Dovremmo Stare fermi Prendere Le nostre Voci Eccole Le nostre voci Buonanotte Aprire la cartella Delle voci Prendere Il file Punto DLL E trascinarlo Qui dentro Se Vi chiederà Se vogliamo Mettere a confronto I file Oppure Sostituirli Mettiamo Sposta e sostituisci E basta Se vi chiede L'autorizzazione D'amministratore Date l'autorizzazione D'amministratore E poi dopo Cliccate su Continua Tranquilli Che dovrebbe andare Tutto quanto bene Quindi Stiamo attenti Soprattutto Quando spostiamo Il file Non metterlo In una cartella Ma metterlo Cioè Nella cartella Principale DLTTS Ma non mettere In una cartella Che sta già Dentro a quella Una volta Fatto questo Se avremo chiuso Textaloud Come avevo detto Io prima Andremo ad aprire Textaloud Ci sarà Quest'immaginetta Qui All'inizio Ti assomiglia A quella Per mettere Il codice Seriale E poi dopo Ci si aprirà Il nostro Textaloud Con le nostre Tre voci Italiane Luca Paola E Roberto Quindi Per ora Stiamo a posto Possiamo scrivere Qualsì tipo di frase Adesso scrivo Per esempio Ciao Se il volume Al massimo Così sentite meglio Ecco Questo qua È il logo Di Textaloud Comunque Questo qui E questo Adesso si vede Ecco Poi dopo Una volta scritta La parola Scelta la lingua Dovremmo andare su Speak Ciao E ce la dirà Allora Roberto è la lingua È la lingua Buonanotte È la voce Che usano Praticamente tutti quanti Nei video Infatti è quella Più simpatica Adesso scrivo Boom Clap Ma lui Invece di dire Boom Clap Dirà Boom Clap Di sicuro Boom Clap No Boom ha detto Boom Strano Perché alcune parole Famose In inglese Le dice Come sono in inglese E quella È la roba Forte Poi dopo Vi faccio sentire pure altre voci Ci sta Paola Metto sempre ciao Che è quella che mi sta più sul cazzo Ciao Che penso che non la userò mai Proprio in casi estremi E poi Luca Ciao Ma il migliore Sempre Roberto Allora qua potremo decidere La velocità E il volume E qua ci sono i vari setting Sarà inutile Cliccare queste Queste robe qua Tanto il linguaggio Abbiamo già scaricato la voce Con il linguaggio Che ci serve Quindi queste cose qua Non ci servono un cazzo Più che altro Qua ci sono i setting Per la velocità E questa è una cosa buona Adesso vi faccio vedere Quando ho parlato Di quelle due opzioni Per chiudere Dovete sempre chiudere così Quando noi andiamo a chiudere Sarà predefinita questa opzione qua Invece andiamo su exit text allowed Clicchiamo su ok Mettiamo a ask me later Non cliccate mai altre cose Perché potrebbe attivarvi aggiornamenti E quindi magari Il crack potrebbe non funzionare Quindi Non cliccate nient'altro E quindi Avremo il nostro text allowed Loquendo funzionante Quindi ragazzi Se il video vi è stato interessante Se siete riusciti a far funzionare Loquendo Quindi cose che magari Non Non sono funzionate Con altri video che avete visto Mettete mi piace Il telefono ovviamente Continua a rompere il cazzo Quindi Se Volete essere riconoscenti Comunque Magari scrivetevi Perché è giusto Se è funzionato Comunque E Spero veramente Che Questo text allowed Funzioni Per Tutti i computer Che voi avete Perché dovrebbe funzionare Per tutti Questo Loquendo Perché Io L'ho fatto funzionare Perché è quello proprio più generico Questo crack Dal Windows XP Fino a Windows 8.1 Ho provato con Windows Con Windows XP Windows 7 E Windows 8.1 L'unica cosa di cui non sono Molto sicuro È Che su Windows 7 Ci sono diversi Tipi Di Windows 7 Ci sta Windows 7 Ultimate Windows 7 Starters Quindi Non lo so Comunque Le versioni di Windows Che sono sicure Al 100% Sono Windows 8.1 Windows 8 E Windows XP Con questi dovrebbero funzionare Sicuramente Adesso Spero veramente Che funzioni a tutti quanti Perché ho provato Con più computer possibili In mea di riportarvi Questo tutorial Quindi ragazzi Per questo video È tutto E Bella a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.